Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare un altro dungeon crawler, che ormai lo sapete e penso l'abbiate capito anche vedendo dietro i giochi che ho, è in assoluto il mio genere di giochi da tavolo di board game preferito. Vi voglio parlare di Perdition Mouth, Abyss and Rift, nella versione rivista, la Revised Edition, a cura della Dragon Dawn, che io ovviamente ringrazio di cuore per averci un'offerta, una copia per la recensione, e sono stati tra l'altro tempestivi sia rispondermi che a mandarmela. Sì, vabbè, progetto ovviamente ragazzi banale dirvelo, ma non lo dico nemmeno in più, perché tanto ormai è l'epoca del Kickstarter, il progetto è interamente finanziato su Kickstarter, e in questa versione Revised ci sono delle cose in più, ma più che altro delle carte in più come regole, e un po' la rivisitazione delle regole, perché gli sviluppatori di questo gioco hanno fatto la cosa più corretta. Dalla prima edizione a questa che non è una seconda, è semplicemente una Revised, hanno dato ascolto a tutti i problemi che erano usciti ai giocatori e alla community, e hanno apportato dei cambiamenti. Cambiamenti non del tutto sostanziali, però comunque diciamo che hanno rivisto alcune regole, magari qualcosa che girava male. E se non erro, questo gioco in Italia è tradotto in italiano dalla GiochiX, che ho visto però sul sito, non si trova quasi più. Comunque, io che me lo sono fatto mandare direttamente da loro, dall'Inghilterra mi sembra sia, non vorrei dire una cavolata, comunque me lo sono fatto mandare direttamente da loro, e mi hanno mandato l'edizione italiana, che poi è bello perché il regolamento è in italiano. Ci sono alcune carte, e soprattutto le schede missione, che poi vi faccio vedere, che davanti sono scritte in italiano e dietro in tedesco. Quindi comunque, penso che direttamente anche acquistando dal sito ufficiale, tanto vi lascio il primo link in descrizione, vi arrivi direttamente alla versione italiana a casa. Quindi, per chi me l'ava chiesto anche su Facebook, perché non tantissime persone lo conoscevano, sì, le espansioni penso di no, ma mi potrei sbagliare. Il gioco base è interamente tradotto in italiano. La confezione no, ma all'interno poi è tutto tradotto. È un dungeon crawler da 1 a 6 giocatori, completamente cooperativo, quindi qui a differenza di un vecchio Dungeon & Dragons, Hero Quest, non c'è la componente, Dungeon Master, 1 a 2 ore di tempo, ci sta a 12 anni in su. Come regole, anche come età va bene, mi sento anch'io di confermarla, come regole è semplice, però questo gioco è molto particolare, anzi, moltissimo particolare, perché non ci sono dadi. E onestamente, il primo dungeon crawler che vedo, dove ci sono soltanto carte da giocare, carte effetto, carte reazione e carte potere, perché l'abbiamo visto anche nel dungeon del Mago Folle. Ci sono le carte che ti danno dei bonus, però poi c'è da tirare il dado per vedere il risultato. Oppure anche in tanti altri giochi, come ad esempio, anche mi viene in mente, Sword & Sorcery. Qui, no, qui si gioca tutto con le carte e non c'è la componente dado. Ora, componente dado vuol dire anche componente culo e sculo, che non è, ve lo dico subito, non è risolta nemmeno in questo gioco. Ci hanno provato con le carte, però col fatto che c'è un mazzo di carte responsa da usare per i nemici, quando giri la carta e vedi un responso, la puoi giostrare come ti pare, però alla fin fine la casualità c'è sempre. Quindi, da una parte l'hanno risolto, da una parte no, ma una cosa è certa, le meccaniche sono innovative da morire. Unboxing. Vedete la confezione, disegno fatto a mano, colorazione digitale fatto veramente bene. scatola, ragazzi, immensa, piena zeppa di roba, ci sono una cinquantina di miniature, pesa 5 kg, cioè un mostro, quando la tirate fuori da arpacco e va a riva, pesa da morire. Vi ci viene l'ernia a tirarla su e anche il disegno è bellino, perché questo gioco ha un'ambientazione dark, gotica, comunque fantasy, in cui praticamente noi si va in questo dungeon, organizzate in vari sottolivelli, Diablo, il gioco che ci sa vicino di più, l'ambientazione è Diablo, e saremo un gruppo di avventurieri chiamati a fermare questo culto, questi cultisti, che cercano di riportare in vita o comunque di aprire dei portali per dei demoni insettoidi. Demoni insettoidi che, la cosa bella di questa ambientazione, vengono evocati, sì, la loro essenza chiamata tramite portali, nidi e cose del genere, però un po' nel buon stile alien, che è una cosa che mi piace da morire, hanno bisogno di organismi ospiti. Quindi, infatti, questo gioco è ganso, che potrete essere tipo nemesis, infettati, e quando sarete infettati il vostro personaggio morirà e dal corpo del vostro personaggio uscirà un demoni insettoide. Veramente bella come confezione e poi immensa. Apriamo regolamento di gioco, come vi ho detto, tutto quanto tradotto in italiano, il gioco è tutto tradotto, è completamente al 100%, ci ho trovato un paio di errori che poi non sono errori, si sono dimenticati di tradurre delle cose dallo spagnolo all'italiano, ma due frasi, due frasi veramente tra l'altro che non servivano nemmeno a niente, ed è organizzato bene perché è pieno zeppo di immagini, di esempi e ci fa vedere un po' come funziona il gioco, anche perché le regole sono facilissime, basilari, però sono particolari. Non usando i dadi hanno trovato altre scamotaggi, insomma, per farvi divertire girandovi le carte ed è una cosa che, insomma, andava spiegata. Il manuale ha tante pagine, ma va sicuro, è semplicissimo. Una lettera da parte degli sviluppatori nelle varie lingue dove vi ringraziano, insomma, per essere stato un sostenitore, un baker del Kickstarter. Una scatola con dentro tutte le carte scenario, che sono praticamente, le carte scenario sono del setup, che vi fanno vedere come costruire le varie mappe del gioco, schede dei personaggi, questa versione è comprensiva anche di Stretch Goal, quindi personaggi nuovi, nidi in 3D e cose varie, e poi ovviamente dentro ci sono anche le carte riepilogative, che vi fanno vedere come gira il turno ed è una bella scatola, insomma, è una scatoletta dentro la scatola e vi fa vedere poi i vari livelli del dungeon. uno sbotto di mazzi di carte, ci sono questi, poi ce ne sono altri all'interno, le carte sono tante, però non vi preoccupate, cioè regolamente è semplice, alla fin fine è normale che ci sono tante carte, se devono completamente sostituire la casualità e le regole di un tiro di dado, insomma, è un gioco completamente basato sulle carte. Due cursori colorati, che servono per attivare sulla ruota dei mostri le varie azioni che possono fare, sacchetto pieno a zeppo di miniature che poi alla fine vede sono i mostri, mostri speciali, i demoni, ci sono già dentro cultisti, i demoni e quant'altro e poi da questa parte qui ci sono gli eroi che sono veramente bellini, ve ne faccio vedere un paio, ad esempio vedete qui un cultista, quindi il rango in assoluto più infimo che c'è, guardate bello, la qualità sono piccoline, non sono immense, però la qualità è fatta veramente bene, sono di plastica e il dettaglio è spettacolare, belle, sono fatte veramente veramente bene, un arachnide o comunque un demone minore, sono tutti quanti in questo stile qui e quello, il boss finale, un mega demone fatto veramente bene da paura, un eroe, preso così comunque a caso per farvi vedere anche la qualità, sono belli e molto caratteristici, anche perché andando a giocare in questa ambientazione ve l'ho detto, dark, gotica, horror, qualcosa si dovevano comunque inventare per renderli un pochino più particolareggiati, ecco rispetto a, non sono sicuramente gli eroi del power o epic fantasy che siamo abituati a vedere, belli comunque da morire mi garbano, mi garbano veramente un casino, il demone finale del gioco, un po' come fosse Diablo, l'incarnazione del male, che questo non lo dovete mai mettere in campo fino a che non è l'avventura a dervelo, che di solito sono o l'ultime due avventure o qualcosa del genere, quindi questo è un mostro che entrerà non seguendo le regole ma solo quando ve lo dirà appunto la missione. Ruota dei mostri con le varie azioni che possono fare i mostri e questo c'è da attaccarcelo sopra per vedere il livello di minaccia, ve lo faccio vedere dopo. Ruota delle azioni degli eroi, schede per tenere traccia dei morti che avete fatto, delle ferite, delle vittime, dei tesori raccolti, questo serve per la modalità campagna, un po' come su Hero, questo insomma, andando avanti missione dopo missione i vostri personaggi diventeranno sempre più forti e tenete conto qui. Ah, c'è una regola bastarda in questo gioco che nella modalità campagna se uno dei vostri eroi muore lo dovete sostituire. Non è che nella missione dopo torna in vita magicamente, se non riuscite, ci sono anche incantesimi e a volte cose varie per risuscitare, ma se non riuscite a risuscitare un eroe e magari delle 20 missioni che ci sono nella terza quell'eroe muore è morto, è fuori e dovete scegliere un altro eroe. Gli eroi morti non vanno avanti nell'avventura. Adesivi da attaccare sui cursori dei giocatori che servono per tracciare le mosse e un trilione di tile di gioco di mappe già pronte, non sono componibili nello stile di hero questo è un pezzo unico e un bel po' di token che sono i punti ferita per i mostri, scudi per i personaggi, tesori come vedete in fondo, insomma ci sono un bel po' di token da mettere in campo. Nel setup iniziale noi ora stiamo facendo una partita a tre giocatori vi faccio vedere due schede tanto comunque il discorso è su con lo stesso comunque stiamo facendo una partita a tre giocatori consiglio di se giocate da soli di usare almeno tre eroi se fate una partita in solitario se giocate in due per me ve la potete giocare tranquillamente con un eroe a testa o magari a un giocatore gliene fate tenere due comunque il meglio a questo gioco lo dà da tre in su. Ciascun eroe come vedete ha un simbolo e una classe accanto che potrebbe essere un guerriero un castante un mago e quant'altro e ogni eroe ha vedete un simbolo simbolo che poi è riportato anche sul cursore con l'adesivo che ci abbiamo attaccato ora le caratteristiche poi ve le vado tutte quante a descrivere ciascun eroe ha il suo mazzo che è ora lo giro tanto che se ne frega la più fine anche se si vede cosa c'è sotto il suo mazzo lo vedete identificato dallo stesso colore dell'eroe e simbolo quindi anche l'eroe qui accanto ha il suo mazzo personalizzato quindi ciascun eroe ha il suo mazzo personalizzato che gli consente di fare azioni che solo lui può fare quindi sicuramente le azioni di un mago non saranno mai le azioni di un guerriero e così via poi in alto vedete a parte il numero di personaggio e la figura ci sono due numeri lui di partenza può avere una mano di 5 carte quindi dal suo mazzo può avere una mano di 5 carte e il massimale di quelle che potrà tenere in mano sarà di 7 quindi il primo è sempre un valore di partenza il secondo invece vedete scritto max è il massimale delle carte che può tenere in mano abilità passiva di tutti i personaggi quindi la prima che leggete è un'abilità passiva che è sempre attiva abilità speciale del personaggio che si può attivare solo quando sulle carte uscirà questo simbolo tanto ve lo faccio vedere successivamente e poi qua giù in fondo abbiamo i punti ferite e le caratteristiche del personaggio che nella fattispecie sono il numero di azioni che può fare a turno quindi le stelline l'agittata quindi questo è un eroe che attacca agittata 1 o 2 quindi adiacente o a una casella di distanza le ferite del personaggio che nel caso del nano partono da 4 ma possono salire fino a 5 poi ovviamente quando arriva sul teschio il personaggio banale dirvi che è morto ci mettete sopra la freccetta qui accanto il valore di attacco del personaggio e il valore di difesa del personaggio stessa cosa di qua nel caso del mago vedete che a meno punti ferite è tutto ora in questo gioco ogni qualvolta si subisce un punto ferita che di solito tutte a meno che non ci sia qualcosa di particolare ma tutte le armi del gioco fanno un danno non c'è da fare tiri non esiste il dado quindi quando subirete una ferita dovrete sempre scalare il cursore in giù e dovrete sempre reggere la riga a pari misura dei punti feriti attuali perché vedete piano piano che si scala il personaggio diventa più debole quindi magari scalando già di un punto ferita vedete che la mia forza non è più 2 come avevo di partenza ma diventa 1 la mia difesa non è più 2 ma diventa 1 la gittata rimane la stessa il numero delle azioni fino a limitare dei punti ferita sono sempre comunque abbastanza alte e poi qui al lato le carte che il personaggio può tenere una e una soltanto perché da questa parte ci sono sempre le carte inventario nell'inventario potete tenere una carta sola o almeno per i disegni che avete che ne so lui ha una carta inventario una carta equipaggiamento il nano ha una carta inventario 3 carte equipaggiamento quindi il nano può portare sicuramente più oggetti di un castante e per ricordarvi il tipo di eroe se è un eroe da gittata se è un eroe di corpo a corpo lo vedete semplicemente anche dal disegno che c'è accanto spada da corpo a corpo per quanto lui però attacca anche a 2 ma diciamo che è un eroe da corpo a corpo il mago che invece casta fino a distanza 4 al simbolo della distanza e queste sono le plance dei personaggi con le miniature dei personaggi e con i mazzi dei personaggi banale dirvi che all'inizio prima di iniziare la partita vi dice pescane 5 e ne può avere massimo 7 in mano 1 2 3 4 5 andate a pescare le prime 5 carte del mazzo le girate le guardate tanto ragazzi è un gioco cooperativo quindi non potete e non dovete nascondere e ora a parte gliele metto sulla scheda per farvele vedere meglio le andate a disporre nel suo lato del tavolo queste sono non tanto le azioni perché le azioni sono quelle segnate sulla scheda come vi ricordo quindi il nano prendendo l'esempio cena 4 però queste carte vi dicono la possanza che potete avere nelle varie azioni nella fattispecie quando c'è tutti i simboli vuol dire che la potete usare per qualsiasi azione quando c'è il simbolo dello speciale vuol dire che la potete usare appunto per la vostra per il vostro attacco speciale nel caso ci fosse soltanto un pugno rosso vuol dire che la potete usare per darvi forza in combattimento lo scudo che la potete usare per darvi forza in difesa e se c'è il piede vuol dire che la potete usare per fare un movimento quando ci sono tutti i simboli come in questo caso c'è stata è una buona mano di partenza potete usarla per qualsiasi cosa questa è la prima mappa del gioco che praticamente sarebbe questa qua e vedete c'è il setup con le regole speciali ora dalla parte di qua leggetela sempre perché c'è la parte di storia narrativa che è bellina no? io e mia moglie difficilmente giocheremo una campagna comunque a missione singola leggete le regole speciali leggete anche se c'hanno altre regole speciali in più sotto c'è la modalità difficile magari per chi ha voglia di avere una sfida in più può usare queste regole per la modalità difficile poi c'è il setup scritto qui in fondo per come dovete piazzare mostri, entrate e quant'altro e qui ci sono le varie riserve del gioco le riserve che ora poi ve le faccio vedere le varie riserve dei mostri riserva principale riserva secondaria riserva alternativa questo qui è praticamente una specie di pozzo da cui attingere per la riserva principale secondaria e poi ovviamente che non c'è portata sulla scheda la riserva dei mostri morti e qui vi dice anche il nome della mappa che dovete mettere in campo in questo caso entrance che è questa mappa qui e nel setup che abbiamo fatto questa è l'entrata degli eroi che ora vi faccio vedere poi come funziona quindi quando entreranno in campo gli eroi entreranno sempre da questa casella qui e l'uscita è questa casella qua giù almeno che la missione non vi dica qualcosa di differente distruggi nidi insomma ci potrebbe essere di solito la partita finisce quando voi arrivate all'uscita quindi di solito gli eroi devono sempre scappare da un punto a un altro per arrivare in una zona successiva ah quando vedete delle zone sulla mappa con dei simboli vedete strani no? tipo questi simboli qua queste qua vuol dire che sono terreni impervi o cose del genere quindi sono terreni soggetti a regole particolari per il movimento tipo quando un eroe ci si muove dentro deve sprecare più azioni per muoversi perché vedete ci sono le macerie insomma sono terreni impervi comunque di solito la missione è quella di prendere e di scappare qua giù in fondo poi sulla mappa vedete che ci sono dei simboli particolari come ad esempio le botole e a volte ci sono anche dei nidi ma non è questo il caso perché quando i mostri umani quindi perché i mostri sono i nemici umani tipo gli accoliti e i mostri che sono tipo questi qua giù per farvi rivedere nella prima missione quando dei mostri umani dovranno sponare sponeranno sempre adiacenti alla botola quando invece i demoni dovranno sponare nella missione di partenza sponano dall'uscita da dove i giocatori dovrebbero arrivare all'uscita nelle altre missioni ci saranno direttamente i nidi come zona di spawn dei mostri quindi questa è il setup iniziale e questa qua su in cima invece è una campana perché gli accoliti nel loro turno e come il loro movimento cercheranno sempre di correre per andare verso la campana e suonando la campana una volta che l'avranno alzata il valore di minaccia che ora poi vi faccio vedere salirà di un punto e quindi salendo di un punto ci sarà più possibilità che vadano a sponare non tanto mostri più forti quanto più mostri in generale quindi questo diciamo che è il setup iniziale dell'avventura avventura che in questo gioco qui è un'avventura basilare quindi comunque è molto facile l'avventura del tutorial ci chiede soltanto di partire da un punto A e uscire da un punto B non c'è niente di particolare riserva principale dei mostri riserva secondaria dei mostri riserva alternativa e morti quindi quando un mostro muore lo mettete qui per ricordarvi che non può più entrare in gioco e questo tipo di mostro è finito perché se la missione vi chiedesse evoca ne altri evoca un accolito e voi gli accoliti ce li avete tutti morti non ne potete più pescare quindi anche se la missione vi dice il livello di minaccia di evocarne nuovi voi non ne potete più evocare perché sono morti almeno che non vengono riportati in vita da un sortilegio è una cosa del genere è una necromanzia comunque in questa missione principale ci sono evocatori accoliti evocatori accoliti e poi accoliti e l'indworm comunque mostri in fondo laggiù e in più ci sono anche le guardie sul tavolo che sono queste qua giù sono praticamente un po' più forti con la scerbottana e ci hanno un punto per il tempo in più quindi ricordatevi che quando la missione vi chiederà che ne so dal a seconda del livello di minaccia dal pozzo dalla riserva primaria evoca un accolito voi sapete che la dovete prendere dalla riserva primaria se vi chiede dalla riserva secondaria la dovete prendere da qui decisione e facoltà dei giocatori visto che è un gioco operativo scegliere quale mostro entrerà in campo quindi sarà un classico prima mettiamo gli accoliti che fanno schifo e dopo mettiamo gli evocatori che sono particolarmente più forti comunque ora poi tanto l'elenco dei mostri ve lo faccio vedere ah si chiamano boneworm non so perché le chiamavo l'indworm non lo so è la scheda dei mostri con le caratteristiche dei mostri in modalità difficile da una parte vedete c'è scritto in alto difficile e la modalità standard usate la modalità standard per partire come vedete l'accolito ha 2 di movimento attacca a distanza 1 un solo punto ferita vi ricordo che chiunque fa un solo punto ferita in questo gioco anche i vostri eroi ha un valore di attacco di 1 e un valore di difesa di 1 quindi questa e ve la tenete a portata per ricordarvi insomma le caratteristiche del mostro e vedete bene che un evocatore è molto più forte ha 3 punti ferita quindi evocate prima quelli piccini e poi quelli più grandi all'inizio del turno dei giocatori scegliete voi l'ordine come giocare noi in questo caso abbiamo scelto l'ho fatto vedere 3 eroi che sono un nano bene o male da corpo a corpo corta cittata un castante e un guerriero tra l'altro bellissimo sembra un centurione romano anche lo stile ha ragione mia moglie questo gioco ricorda darkest dungeon darkest dungeon veramente forse per quello che mi sta garbando guardate ragazzi come ambientazione è veramente accattivante questa ruota che poi si è rivista anche un po' in nuova etas ecco mi viene l'idea però questa ruota è la figata perché visto che è un gioco cooperativo decidiamo noi come muoverci quindi mettiamo caso che per primo io voglio muovere quest'eroe che quest'eroe qui bastian è il guerriero il tank ed ha questo cursore qui sulla scheda quindi ricordatevi la spada azzurra quindi mettiamo caso il primo turno si fa muovere lui e sulla sua scheda c'è scritto che lui ha sei azioni quindi lui nel suo turno ha sei azioni ora come gira il turno in questo gioco intanto le carte di bastian sono queste qui che vedete nel mazzo lui ha il simbolo suo quindi riconoscete i mazzi direttamente dal simbolo avrà ora qui ce l'ho messo tutte facciamo conto che ne ha pescate quattro lui inizio ne pesca quattro e ne può tenere sei in mano ora nella ruota noi ricordiamoci che abbiamo sei azioni le azioni si possono usare per fare azioni sul tabellone o per fare azioni sulla ruota l'unica regola dice che te quando inizi il turno di almeno un settore ti devi spostare sulla ruota delle azioni cioè non può rimanere nel settore di prima almeno di uno ti devi spostare e vedete la ruota è divisa in vari settori un settore un settore uno qui uno qui uno qui che poi sono movimento speciale attacco sprint che sarebbe la corsa difesa carica quindi movimento più attacco rest che serve praticamente per rinvigorire il mazzo poi vedete che c'è i made shot che praticamente è un colpo mirato ma a distanza e bash che è un colpo più potente però in corpo a corpo ora mettiamo caso che noi siamo qui perché è iniziata l'avventura quindi l'avventura parte da qui e vi ricordate che ora l'ho coperto comunque dobbiamo arrivare qua giù in fondo che c'è l'uscita però nel frattempo per arrivare all'uscita cerchiamo ad ammazzare un po' di mostri perché se no questi mostri vanno a suonare il gong e alzano il livello di difficoltà ve lo faccio vedere dopo il livello di minaccia quindi la prima cosa vi ricordo che lui ha sei azioni quindi prima di tutto vado a levare il suo cursore da qui che c'ha un piolino sotto occhio come li levate ragazzi perché è tutto un leve e metti in questo gioco quindi state attenti a non piegarci troppo e non romperlo comunque per ogni settore di cui vi spostate pagate un'azione quindi un'azione due azioni tre azioni quattro azioni e così via l'unica differenza è che se qui mettiamo caso questo settore qui dello special fosse già occupato come vedete voi questa parte non la contate perché ovviamente non essendoci buchi per metterci il vostro piolo non vi può far pagare qualcosa di cui non potete soffrire quindi nel caso io voglio andare qui non pagherò più uno e due ma pagherò uno soltanto perché questo è già occupato ora devo decidere cosa fare in questo turno è inutile andare su attacchi che attacco sono in una zona che non c'è mostri quindi prima di tutto cerco di andare sul movimento questa zona è già presa quindi non posso sfruttare il movimento va bene allora come vi ho detto faccio uno due metto il mio cursore o qui o qui dove vi pare ragazzi decidete voi tanto perché conta che uno soltanto dei due buchi sia preso e ricordatevi che la freccia tenetela sempre verso l'esterno che sta a ricordare che il giocatore deve ancora muoversi quando invece la girate verso l'interno vuol dire che è già finito le sue azioni quindi io l'appoggio qui e ho sprecato quante? una due azioni lui ce n'ha sei quindi sei meno due quattro ora ho quattro cose che posso fare ho quattro punti azione posso sprecarle tutte quante per fare le azioni che ci sono descritte quindi qui farò movimento più pesco una carta nel caso invece fossi sul charge potrei fare movimento e attacco dovete fare tutte e due le cose che ci sono scritte quindi nel caso l'attacco dopo la carica è gratuito in questo caso ho quattro azioni e faccio uno due tre quattro importante gli eroi si muovono e anche i nemici solo ortogonalmente non si possono muovere in diagonale però possono attaccare in diagonale quindi se c'è un mostro in diagonale lo posso attaccare però non mi posso muovere in diagonale quindi dovrò fare uno due tre e quattro lui ha finito le sue azioni è arrivato qui ma mi vengono incontro intanto questa carta che questa carta è il mazzo responsi il mazzo responsi è questo qui è quello che viene utilizzato dai mostri o dagli eroi quando ovviamente la ruota lo richiede e mi dice pesca una carta io pesco una carta a responsa come è stato detto e vedete che ha un valore di più due quindi io questo più due lo posso usare e dico va bene l'ho girato ho un più due quindi uno e due perché mi ha dato più due punti azione su quello che stavo facendo ora il suo turno sarebbe finito perché non potrebbe attaccare e non può fare nient'altro ma vi ricordate vi ho detto all'inizio ciascuno ha una mano di carte ciascun eroe ha la sua mano questa è la mano di partenza di bastian il nostro guerrero tank quindi lui ha queste carte le può giocare tutte tutte le carte che avete in mano non c'è un limite una per turno le potete giocare tutte ma dovete rispettare sempre come vedete il simbolino che c'è in alto i simbolini quindi io ad esempio potrei dire ok però a me mi serve da arrivare in corpo a corpo a questo mosto perché lo voglio picchiare se le scarto tutte potrei fare 1 più 1 più 2 perché ovviamente sono punti aggiuntivi e potrei dire con 1 più 1 perché c'è anche il simbolo del piede più 2 che fa 4 potrei fare che ne so 1 2 3 4 e arrivare in corpo a corpo perché vedete a questo punto qui ce l'ho fatta con tutti i bonus che ho preso e quant'altro arrivare in corpo a corpo ah importante applicate sempre una carta alla volta col bonus che c'è scritto sotto non posso attaccare perché sulla ruota vedete io ho scelto il lato sprint quindi il lato sprint mi dava di muovermi e in più giocare una carta carta che abbiamo già giocato all'inizio che mi dava un bonus al movimento e tutto quindi voi qui non potete attaccare anche se le sono arrivato in corpo a corpo e non ho comunque più punti azione ma io ho una carta che mi fa sia attaccare che speciale potrei dire ok l'attacco e mi do un più 5 ma non lo posso fare perché non ho più in questo quadrante qui non c'è l'azione di attacco mettiamo caso che il nano invece fosse nel giro dei suoi turni più avanti arrivato in corpo a corpo per darmi supporto e mettiamo caso che il cursore del nano che è questo qui in rosso l'avesse messo appunto sul charge vi ricordo che il nano ha 4 azioni mettiamo caso che con la carica le ha sprecate tutte e 4 ed è arrivato in corpo a corpo all'accolito l'accolito ha un solo valore di scudo e il nano ha un valore di attacco di 3 quindi 3 è più alto di 1 di 2 l'avrei già ferita e colpita e l'accolito sarebbe morto usando l'attacco però vi ricordate che ci sono le carte questo qui è il mazzo del nano carte che possono essere utilizzate magari il nano dice ok io come voglio darmi un bonus di più 3 che vado a 6 perché fare questo perché ricordatevi sempre che dal mazzo del risponso i mostri pescano sempre quando si difendono da voi e quando vi attaccheranno nel loro turno quindi se io ho un valore di 3 però non so che valore uscirà qui se mi uscisse un più 3 va più 3 a difesa del mostro e quindi il mostro è a difesa 1 io ho fatto 3 col mio valore di attacco più 3 che gli ho dato per darmi un bonus che fa 6 vediamo e dico ok basta non aggiungo nient'altro quando e solo quando avete deciso quante carte giocare non prima datelo ok ok e girate la carta quindi il mostro prende un più 2 io ho 6 di attacco il mostro 1 più 2 va a 3 di difesa quindi il mostro l'ho sconfitto l'ho ucciso scarto questa le carte usate vanno scartate ora poi vi dico il perché importante le carte che avete usato quindi nel caso dell'eroe vanno nel mazzo degli scarti dell'eroe del tank questo del nano va nel mazzo di scarti del nano e l'accolito è rimosso ed è ucciso quando un accolito muore ricordatevi se un accolito un mostro ricordatevi sempre di metterli sotto questo cursore qua quello praticamente col triangolino per far vedere che quella è la riserva dei morti e sono mostri che a parte regole particolari non potranno tornare in gioco oppure io quando è il turno di un altro eroe mettiamo caso il nano avesse voluto combattere l'accolito un altro tipo di mostro e non avesse carte per darsi manforte un altro eroe avrebbe voluto dire nel caso faccio l'esempio di bastian puoi regalare carte ad altri eroi che sono nelle tue vicinanze puoi dire che ne so questa carta che mi dà 5 vedete in attacco rosso la do al nano perché voglio che il nano distrugga quel nemico ok voi date questa carta la scartate comunque e il nano nel combattimento nel suo turno prende più 5 il valore che c'è qui però occhio per ogni casella di cui se siete in corpo a corpo se siete agittata quindi sempre 1 gli date il bonus completo se siete agittata a 2 dovete iniziare a scalare meno 1 meno 2 meno 3 per ogni casella che siete a distanza dal nano che non sia adiacente dovete scalare 1 al valore che gli date quindi nel caso lui fosse qui sarebbero 1 2 vedete quindi 2 meno perché non sono più adiacente quindi dovrei dargli 3 se io fossi qua gli darei 2 se io quest'aiuto glielo dessi da qua giù gli darei soltanto un più 1 quindi per ogni casella che non siete adiacente distante dall'altro che volete aiutare prendete un malus di 1 stessa cosa ragazzi banale dirvelo se volete attivare la capacità speciale dovete usare ovviamente una carta col simbolo speciale perché vedete in questo settore qui si possono attivare solo movimenti e carte speciali se finite qui invece potete attivare soltanto carte col pugno ricordatevi sempre che ogni settore ha le sue regole tipo questo ti dà un attacco e in più pesca una carta questo movimento e in più pesca una carta i due settori più importanti o per meglio dire i due simboli più importanti sono il primo il riposo il riposo vi consente di mescolare tutte le carte che avete scartato del vostro eroe prenderle proprio rimescolarle nel mazzo principale così da rinvigorire la vostra mano perché le carte scartate non le pescate più quelle che avete scartato fino a che non fate un rest non le potete ripescare assolutamente perché queste qui le andate a pescare dal mazzo ancora completo ancora intoccato le carte che avete scartato le potete riprendere solo dal rest e poi quando vedete un simbolo con un cerchio vuol dire che potete spendere punti azione ogni due punti azione date un punto in più a quella cosa che ne so io con il primo mio punti azione del mago che vi ricordo il mago è quello che ce n'ha di più ce n'ha otto vado qui quindi spostandomi da qui a qui già mi è costato uno da un settore all'altro ok ora movimento mi rimangono sette azioni io posso sprecare proprio non carte con dei punteggi come in questo caso qui no vedete che ci sono dei bonus posso proprio usare i miei punti azione per rinvigorire l'azione che sto facendo quindi dico di quei sette punti che mi rimangono ne voglio sprecare quattro per dare più due già al movimento ok quindi già spreco quattro punti azione per fare due movimenti in più poi ci metterò tutti i bonus delle carte le cose del genere questo cerchio vuol dire che potete spendere due punti azioni per dare un'azione in più in quella cosa in questo caso qui potrei darmi per ogni due punti azioni che ci spendo mi do più uno alla forza del combattimento quindi ti servono per riuscire a fare azioni anche quando non hai particolarmente tante carte in mano e questo ragazzi è il succo del gioco quindi nel movimento e nelle azioni che potete fare ah nelle azioni tipo aprire scrigni aprire porte aprire porte segrete cose del genere non serve un'azione qui basta semplicemente il movimento ma voi ricordatevi sempre che potete fare solo l'azione del settore dove vi siete fermati quindi per assurdo se voi vi fermate il mago si ferma in questo settore in questo turno può attaccare pescare una carta dal suo mazzo ma non si può muovere dove lo vedete il piede in questo settore quindi questo non è un settore che ti consente di muoverti il regolo vuole che di almeno un settore ti devi muovere o se no in alternativa potete non usare le carte che avete ma donarle tutte a un altro eroe con la differenza che per ogni casella che siete distanti da lui in adiacenza la carta perde uno di valore si va al turno dei mostri la ruota dei mostri che è questa qui dove all'inizio dovete mettere vedete sul movimento c'ha un po' di sangue come se ci fosse una schizzata di sangue qui ci dovete mettere queste due pietrine perché una vi ricorda sempre il punto di partenza e una il punto di arrivo con le varie azioni che dovete fare ah sia nel coso dei mostri che nell'attivazione della sequenza di turni e dell'azione dei giocatori degli eroi ci si muove sempre solo in senso orario mai anti-orario ovviamente non c'è nessuna regola che ti dirà mai di muoverti in senso anti-orario comunque come funziona quando tutti gli eroi hanno agito quindi quando tutti i giocatori con i propri personaggi perché è un gioco cooperativo hanno finito le proprie azioni ah piccolissima correzione è questo quello di partenza vedete c'è un teschetto qui disegnato quindi quello di partenza non è questo scusate ma è quello dove c'è un teschetto vabbè piccolezza comunque quando arriva il turno dei mostri voi dal mazzo dei responzi che è questo qui ora poi vi faccio vedere una carta e ve lo levo dal mazzo dei responzi dovete andare a pescare una carta questo qui invece è l'indicatore di minaccia praticamente è una ruota che si muove dentro la ruota e vedete ci sono dei numeri 1 1 1 1 per poi salire verso il 2 all'inizio questo qui quando fate il setup della partita deve sempre partire su un tot di scatti che sono il valore della missione che è qua su in cima quindi vedete 1 più 1 scatto per ogni eroe che è in gioco quindi 1 è il valore della missione 3 eroi perché è una partita a 3 quindi 4 scatti e di partenza dovete essere su quello che non c'è niente quindi fate 1 2 3 e 4 quindi il valore di minaccia è 1 al momento valore di minaccia che vuol dire che quando entrerà un mostro in gioco ne entrerà soltanto 1 ora dal mazzo dei responsi subito all'inizio del turno dei mostri dovete andare a pescare una carta pescate una carta e la mettete giù questa carta qui con il valore che vi dà vi ricordo che il mazzo dei responsi è sempre solo dei mostri almeno che una regola non vi dica di fare qualcosato un'abilità speciale o anche sulla ruota delle azioni degli eroi dovete andare a muovere di più 2 perché vedete c'è scritto muovi di più 2 quindi voi sapete dov'è la partenza che era questa muovete questo di 2 1 e 2 avanti di due settori quindi ora tutti i mostri che sono in campo tutti dal primo all'ultimo e tutti i mostri che ci sono si muovono in questo gioco faranno le loro azioni quindi la prima si sposta questo così tutti i mostri si muovono ok quindi tutti i mostri che si muovono faranno i loro movimenti sul campo di battaglia i mostri cercano sempre 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 di andare a parte che non ci siano regole speciali dell'ambientazione della mappa scritte qui sopra nel setup i mostri cercano sempre di andare in corpo a corpo all'eroe più vicino se ce n'è più di uno alla stessa distanza all'eroe più ferito vabbè le stesse regole si vedono un po' dappertutto ma gli accoliti ricordatevi che cercheranno sempre di andare verso il gong per suonarlo e quando un accolito arriva sulla casella del gong e lo va a suonare subito alzate di uno il cursore che in questo caso come vedete andrebbe a due quindi subito si alza di uno la minaccia perché è andato lì e ha suonato il gong ora quando dovete fare le azioni risolvetele tutte quindi prima tutti i movimenti dei mostri i mostri i mostri si muovono del loro valore valore che ci avete segnato sulla scheda questo qua giù quindi qui vedete il cultista di quanto si muove vedete l'accolito di quanto si muove vedete l'evocatore di quanto si muove e li muovete non usano carte i mostri non hanno carte come voi per potenziarsi quindi si muovono quando si devono muovere e poi si sono mosse e hanno finito sì l'azione quella dopo cosa mi richiede mi richiede andando qui mi richiede l'attacco quindi tutti i mostri attaccano e i mostri quando attaccano le regole sono identiche spiccicate a quelle dei giocatori con la differenza che un mostro quando vi attacca usa il suo valore di attacco quindi nel caso dell'accolito contro il nostro tank che abbiamo visto prima lui ha un valore di 1 e il nostro tank ha un valore di difesa di 4 ora il tank l'eroe deve decidere quante carte usare per difendersi e ovviamente potrà usare carte per difendersi che avranno il simbolo dello scudo o tutti quanti i simboli non potrebbe usare una carta come questa del bonfire per difendersi perché non c'è il simbolo dello scudo quindi lui dirà ok io quello lì mi attacca quanto c'ha d'attacco 1 io c'ho difesa 4 ma sai che c'è non gioco nessuna carta tanto già comunque vinco di 3 sì però poi dal mazzo dei responsi perché i mostri usano il mazzo dei responsi sia per difendersi che per attaccarvi dal mazzo dei responsi viene pescata una carta si gira e dà più 2 all'attacco del mostro 1 più 2 3 ma lui ha difesa 4 quindi l'attacco non è andato a compimento e non gli ha fatto niente quando un eroe viene ferito voi abbassate il cursore sulla sua scheda come vi ho fatto vedere iniziate a leggere quella riga per ricordarvi che ora è meno mato e ferito e quindi avrà appunto le caratteristiche più basse rispetto a prima ricordatevi sempre che quando fate un punto ferita un mostro muore se il mostro ha più punti ferita gli mettete un token accanto per ricordarvi che è stato ferito se il vostro eroe viene ferito maledetto avvelenato cose del genere gli mettete accanto un cursore del genere quindi i cursori dei punti ferita sono solo per i mostri perché quelli dei vostri eroi li segnate direttamente sulla plancia sulla scheda e le carte responsi le usano soltanto i mostri per attaccarvi e per difendersi quindi il combattimento e le regole del gioco sono tutte qui quando poi ultima cosa abbiamo finito le azioni passano sugli spawn che vedete questi sono in inglese se finisce qui c'è uno spawn principale col cerchio che vi ricordo ve l'ho fatto vedere prima questo qui col cerchio se finisce di qua è uno spawn secondario ora se finisce qui c'è uno spawn nel cerchio principale che mi dice 1 il livello di minaccia è 1 quindi devo spawnare un mostro fate voi c'ho 2 accoliti e 2 evocatori l'evocatore è più forte quindi io spono un accolito e gli accoliti umani che non siano demoni spawnano sempre sulla botola come vi ho fatto vedere all'inizio quindi spawno lui nel caso più avanti o con la stessa azione del turno ci va male esce una carta grossa finisce qui devo spawnare sempre a livello di minaccia quindi 1 un mostro da quella secondaria e anche da quella secondaria io visto che non sono masochista scelgo un altro accolito quando per sculo all'inizio della fase dei mostri sulla rota dei mostri pescate una carta che vedete già da un valore più 4 e voi muovete per vedere dove va nel quadrante ma c'è questo simbolo rosso vuol dire che subito dalla riserva che la riserva è questa qua giù questa qui è principale secondaria riserva e morti in fondo quindi nel caso dei morti li mettete qua giù bisogna vedere il livello di minaccia e questi mostri verranno spostati nella riserva principale e secondaria quindi se la minaccia è 1 voi prendete uno dei mostri che preferite quello che vi pare a voi e dite ok questo si sposta nella primaria oppure nella secondaria quello scegliete voi però nel caso ci fosse un livello di minaccia di 4 voi dovreste spostarli tutti e potreste dire vabbè faccio 1 e 1 questo qui nella primaria e questa nella secondaria sono mostri che si spostano soltanto dalla riserva non entrano in gioco però quando dovrete andare a pescare dalle due riserve vedete che ora c'è molta più scelta o e prima o poi quando gli accolti finiranno l'avrete messi tutti e saranno distrutti toccherà i mostri più forti però siete sempre voi che scegliete a meno che la missione vi dica qualcosa quale tipo di mostro entrerà in campo e queste ragazze sono tutte le regole finiscono regole del gioco il mazzo dei prigionieri che hanno un mazzo a parte che potete liberare nel corso della missione e schede particolari ma che non vi sto a far vedere ci sono il mazzo dei tesori perché quale dannatissimo dungeon crawler sarebbe senza le carte equipaggiamento quindi armature spade che vi danno bonus e quant'altro e questo mazzo qui che è questo qui retro verde costituito per dish on mouth ogni qual volta andrete ve lo dirà la missione ma soprattutto a trovare un tesoro quindi usando un'azione per aprire il tesoro del movimento andate a pescare una carta e questa è la vostra arma insomma l'equipaggiamento aggiuntivo che potete avere e poi c'è il mazzo delle ferite che è l'ultimo il mazzo delle ferite è particolare perché questo gioco è carino anche le stesse carte ferita ti possono aiutare in un'azione quando subite una ferita pescate da questo mazzo devono essere coperti una carta ferita e la mettete alla vostra parte del tavolo la carta ferita va sempre la guardate e la girate va sempre coperta in cima al vostro mazzo dell'eroe non della mano che avete ora delle carte attuali ma sul mazzo perché successivamente potranno essere pescate e daranno disturba in mano però ricordatevi che allo stesso modo le potete giocare per toglierle dalle scatole quindi questa ha un livello negativo mettiamo caso il nostro guerriero bastian ha 6 azioni ma se la vuole le va di mano perché non ne può più di questa carta quindi dice ok per il prossimo movimento io uso questa carta che mi dà meno 3 quindi 6 meno 3 3 posso fare soltanto 3 azioni ma me la sono levata dalle scatole perché non ne potevo più la ferita ve la tenete questa la buttate nella pila degli scarti della vostra mano e quando farete un'azione di rest la potrete rimescolare insieme alle altre carte ragazzi il gioco praticamente a parte qualche regoluscia in più è tutto qui in conclusione perdonate il video lungo ma ragazzi non vi preoccupate non vi mettete paura qualcuno me l'ha fatto notare anche giustamente no perché ci sta critiche costruttive però sono io logorroico sicuramente questo regolamento si spiega in 15 minuti io ce ne metto 30-40 sono fatto così ragazzi vi giuro che quando ho visto il manuale un po' come quello di Alien Contro Predator mi sono messo paura perché l'ho aperto ho fatto no 30 pagine 40 pagine mamma mia chissà ragazzi è il regolamento più facile del mondo anche perché ci sono pochi token quindi poca roba da mettere in campo non c'è nulla c'è da muovere si picchia e finì la missione e poi queste cose qui di usare le carte invece del tiro di dado rallenta il gioco il flusso di gioco da una parte perché tirare un dado fai prima vedi il risultato confronti con quello del mostro punto ferito no tipo dungeon saga fai molto presto o gli abbinamenti vari questo no col gioco di carte sicuramente il tempo si allunga un po' però è molto più interessante perché la casualità c'è sempre perché c'è il mazzo dei responsi e le carte piccoline che avete visto dei mostri quindi la casualità c'è sempre però io so cosa c'ho in mano e se io so che vado a combatto un mostro che ha 3 di difesa io c'ho 4 d'attacco in mano c'ho una carta che mi dà un valore di più 4 quindi lo batto quasi del doppio del suo valore o comunque anche se lui mi gioca una carta contro sarà difficile che ce la faccia io so che ti spacco la testa è questa la cosa che mi calma perché ti puoi avere il guerriero più forte del mondo tirare un dado fare un fumble fare un tiro schifoso e non hai beccato il mostro qui non c'è in questo gioco se il tuo guerriero è forte combatti un mostro un pochino più debole di te e c'è una carta con un valore disumano te sai che quel mostro lo ammazzi o capita una carta proprio a culo al mostro che gli dà un valore che ti va a eguagliare se no quel mostro lo ammazzi e vi ricordo che in questo gioco sia gli eroi che i nemici fanno un solo punto ferita al round gli accoliti muoiono con un punto ferita i mostri più forti invece dovete mettere i segnalini delle ferite accanto quindi comunque è un gioco facilissimo è un gioco bello mi sembra che non si trovi più in Italia ho visto sul sito della giochi X poi andate a controllare lo dà come esaurito però comunque lo potete ordinare dal sito ufficiale vi arriva in italiano ovviamente quando lo ordinate se lo ordinate vi lascio il link ordinatelo glielo dite mandatemi la copia in italiano perché il gioco è tutto tradotto in italiano quindi richiedetela voi ragazzi se ve lo giuro morissi ora se cercate un dungeon crawler un po' particolare con un'ambientazione tipo a metà strada fa Diablo e Darkest Dungeon questo Perdition Mouth fa proprio a caso vostro ed è veramente quello che cercavo un dungeon crawler alternativo ma con delle regole semplici se le devo dare un voto le do assolutamente un 9 su 10 mi garba da morire e se non gli ho dato 10 è puramente per il che anche le mappe bellissime i disegni sulle carte spettacolari se non gli ho dato 10 è unicamente per il fatto che il mazzo responsi è un po' come tirare al dado alla fin fine quindi hanno cercato di togliere quella casualità che ti dava al dado la botta di culo ma c'è in parte diciamo al 50% c'è ancora quindi 9 su 10 consigliatissimo primo link in descrizione per andarla ad acquistare e poi ovviamente tutti quanti i nostri social ragazzi merita veramente da morire ringrazio ancora una volta la Dragon Dawn per averci offerto una copia per la recensione e vi porteremo io e mia moglie The Bad Gameplay perché è un gioco che merita tanto ciao ragazzi alla prossima Grazie a tutti